Prosegue da parte della città metropolitana fiorentina l'importante opera di risanamento del manto stradale sulla strada regionale 429, in particolare sul tratto del vecchio tracciato che attraversa le frazioni di Fontanella e Sant'Andrea nel comune di Empoli. Dal 9 ottobre prendono in via le operazioni di fresatura e riasfaltatura del piano viario. Non si escludono disagi per la viabilità nel tratto interessato dall'intervento. Il cantiere parte dal semaforo della frazione di Granaiolo e avanza fino a quella di Sant'Andrea, passando da Fontanella in direzione nord. Nel corso dei cantieri si prevede il mantenimento del senso unico alternato, salvo la chiusura della strada, dalle 21 di sabato 14 fino alle 7 della domenica 15 ottobre. Il lavoro è stato organizzato in notturna per contenere i disagi connessi alla chiusura del traffico su un'arteria importante come la SR429. Ovviamente sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso. Condizioni climatiche permettendo, l'intervento dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre.